Grazie a tutti Grazie a tutti Jack! Jack! Riesci a sentirci? Sono qui! Da questa parte Jack! Andiamo veloci! Risaliamo verso Mortest e dovremmo raggiungere la sua... Non contare su di me, Ries! Sono spirito! Cosa? Non può crollare adesso, mister Dan! Non ho più nessun interesse! Ho perso tutto! La mia cinepresa! Tutte le mie pellicole! Credo di voler restare da solo, ragazzi! Seguirò la corrente per vedere se riesco a tornare alla venta! E mi staro! Non possiamo certo lasciarla qui! Mi spiace, Jack! Lascialo andare, Chip! Non abbiamo bisogno! Jack! Avanza sul tuo versante! Prima o poi ci ritroveremo! Emetteva dei suoni mostruosi! La più grande ripresa della mia carriera! La più grande ripresa della mia carriera!